Questo è il nostro caffè, prima il crudo caffè verde, dopodiché è tostato, quello crudo verde, di là. Questo crudo, dopodiché è tostato, collento, piano piano, non c'è orario, tempo, quando è diventato sicuro bisogna togliere con poco, dopodiché macinando con questo. Schiaccia bene, forte, e non sto macinando questo, dopodiché mettiamo la caffè polvere dentro l'acqua fredda sopra, bisogna lasciare il fuoco, 10 minuti, quando è pronto salire questa caffè, vuol dire pronto, e poi non c'è filtro spesso, si mette per diposito la caffè, tutto polvere, rimane dentro, la caffè sopra, e poi si beve, non c'è niente, la polvere di caffè con la bocca, tutto qua è nostro caffè.